Frank, io ti lascerei nel tuo habitat naturale, c'è la tastiera. Il pianoforte, va bene, allora ci avviciniamo. Non perdiamo tempo, però. Questo qui è il mio microfono, bello. Signorone, già si prende il microfono. C'è l'altro, c'è l'altro. Dopo me lo ridai, però. Quello giallo è il suo, allora. Ricordiamoci quello marchiato giallo. Ah, avete la tastiera con anche i tasti neri voi. Perché questa domanda? No, io l'ho comprata su Amazon, c'era un'offerta, ma solo tasti bianchi. L'avrà pagata meno. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Come i dentisti, quelli che mettono occhiale su occhiale. Allora, Frank, prendi confidenza con lo strumento. Dovrebbe essere accordato già, maestro. Cosa succede? 4,40. 4,40 l'ha fatto. Non c'è posto per appoggiare i piedi, faccio pilate. Scivolo, no. L'ha fatto, maestro, diceva che l'ha fatto? 4,40. 4,40. Ah, volentieri dai. No, volentieri. Probabilmente sono cose tra voi. Puoi aggiustarmi un pelino il microfono, ok? Non può farlo lei da solo. Eh no, perché sennò perdo il segno con i tasti. Adesso che li ho trovati, ormai... Ci mancherebbe. Allora, per cantare una canzone è tratto da questo album natalizio. Ah beh, siamo quasi in clima natalizio. È un album. È un album? No, dico un album. Io domando, non è che voglio imporre niente. Se è un album, facciamo un album, va bene. Noi facciamo domande, non è che imponiamo... Va bene, volete... Allora, sono 12 canzoni... 12 canzoni natalizie. Natalizie, questa è la prima... Una raccolta? Come volete, se... Cioè... Io non impongo mai niente. Ma stasera ascoltiamo una canzone natalizie. La prima, quella che ho scritto. E le altre... E devo ancora scrivere le altre. Secondo me... Viene sbrigarsi, però. Devo sbrigarvi un pochino, mi saperebbe. Questa qui si chiama... Cicchi-Ciaca Christmas Night. Ah, Cicchi-Ciaca? Cicchi-Ciaca Christmas Night. Beh, vedo signoroni che è stupido. Che è prodotta da? Vabbè, si fa le domande anche lui, allora. Ma ecco, ma è una curiosità legittima. Magari conosce... È prodotta, è prodotta. Signoroni, guarda che fa le domande. No, signoroni, signoroni. È uguale, è uguale. Ma non è signorone? Cicchi-Ciaca Christmas Night, la storia di questa bambina che aspetta il Natale. Una bambina molto matura per la sua età. Molto, molto, molto matura. È una vecchia. No, 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 no. Si dice anziana, anziana. Un'anziana vecchia. Va bene. Che aspetta il Natale e non sa, viene a scoprire che Babbo Natale non esiste praticamente. Ah, va bene. Siamo proprio un po' la magia del Natale. Ah, è già partita? Com'è? È già partita, è già canzone questa. Va bene, facciamo. È lei che l'ha scritta. Come volete, io chiedo. Collaborazioni va benissimo. Oh la la, perché è un po' francese. Ah, cosa sta? Quindi è un'anteprima che ci regala. Cioè è un'anteprima mondiale. Vabbè, io la faccio un po' in francese. È venuta in mente adesso. Ok, va bene. Oh la la, oh. Oh la la, oh. Oh la la, chica-chaca Christmas Night. Natale, 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 chica-chaca Christmas Night. Ah, che bello che il Natale. Ma sai che Babbo Natale non esiste. Come no, eh no. Oh, pochettore, io non esiste. Oh no, pochettore. È un francesismo. Fammi scappare, voglio andare via, 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 via. Attene, attenete. La storia triste di questa qui che muore. Ma va bene, ma che è nata l'infla. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.